Giulianova e Penne agli straordinari per il recupero della quindicesima giornata del campionato di eccellenza. A tre giorni dall'impegno domenicale, largo spazio al turnover in casa giallorossa, mentre Iodice si affida a Cacciatore alle spalle di Cellucci e Fulvi. Inizio vehemente e convinto del Penne che chiude per buoni dieci minuti. Il Giulianova nella propria metà campo, Cacciatore da calcio da fermo per Cellucci, contratto proprio al momento del tiro. Pressing sui portatori di palla da parte del Penne per il Giulianova che poi riesce a prendere le giuste misure. E al ventesimo Traini prova in diagonale dalla distanza, palla che in ogni caso finisce fuori. Dicevamo di Traini in avvertimento che prova a scaldare il piede e poi un solo minuto per Sissè, Buonavoglia e Di Paolo, i quali trovano D'Amico sugli scudi per ben due volte, fino a quando è la volta di Traini contro il quale nulla può. E' l'1-0 del Giulianova. Pochissimo dopo, ancora Traini in rovesciato che sbarba il palo e poi ancora Sissè per Di Paolo, fermato solo dal salvifico intervento di D'Addazio che gli impedisce di ricevere palla. Riprende campo il Penne, il Giulianova attira il fiato dopo il gol e dopo la legittimazione dello stesso, ma i portieri sono poco impegnati. E' nel primo minuto di recupero di Giuseppe Per di Paolo che incrocia male il collo esterno con pallafuoli, ma poteva fare meglio. Teccaldo e tutte e due le squadre negli spogliatoi. Ripresa che si esplica in un copia in colla del primo tempo, Penne determinato e volitivo ad inizio di gara con due cambi che praticamente cercano l'arrembaggio al recupero dello svantaggio, ma che deve scontare il ritorno della signora Omicidi, che si prepara al delitto al dodicesimo. Di Paolo da laterale a sinistra rientra sul destro, converge tiro potente ma centrale sul quale si oppone D'Amico. Poi al tredicesimo Sisse imita il movimento a Di Paolo, punta D'Amico con un rasoio imprendibile che gli buca le mani ed è il raddoppio 2-0. Tre minuti dopo, buona voglia, Sisse, gran controllo, vede Di Paolo che si aggiusta e fredda D'Amico sotto il legno traverso. 3-0 e ghiaccio sulla gara. La stessa non ha più nulla da dire, la restante mezz'ora è messa di cambio e risparmio di energia in vista di domenica. Ecco qui allora mister, oggi l'ha sostituito in panchina come domenica scorsa, del resto c'è rasi, una vittoria abbastanza larga, una prestazione un po' come quella di domenica, in cui siete usciti alla distanza e in cui comunque nel migliore dei modi poi avete portato a termine. Sì, sicuramente si è fatta sentire ancora di più la stanchezza dei 7-8 giorni che abbiamo fatto degli allenamenti individuali e quindi eravamo effettivamente un pochino sulle gambe. Poi alla fine sono emersi degli elementi importanti che in certe occasioni ci fanno la differenza. Però devo fare i complimenti al Penne perché sono venuti qua, hanno giocato la partita a viso aperto e in alcune circostanze ci hanno messo in difficoltà. Adesso noi dobbiamo essere bravi a risettare tutto perché domenica fra tre giorni abbiamo ancora un'altra partita molto importante e quindi ce la godiamo, però già da domani dobbiamo subito cominciare a pensare alla partita di domenica che è altrettanto importante. Avete avuto un approccio alla gara volitivo, determinato, voi avete subito l'iniziativa del Giulianova, diciamo un po' sia nel primo che nel secondo tempo che vi ha un po' freddato. Hai detto bene, siamo partiti bene, abbiamo avuto pure un'occasione per fare il gol. Chiaro che vieni a giocare a Giulianova, se quelle che ti occasioni ti capitano sono le sfrutti, poi la paghi. Quindi Giulianova, lo sappiamo, è una squadra forte, giovane, quindi stanno in fiducia, nonostante i problemi che hanno avuto, però è una squadra che sta in fiducia, quindi hanno un bel ritmo. È normale che quando ti capitano le occasioni, se la buttite dentro, forse cambia la vita. Poi una volta passati in vantaggio di Giulianova è normale che per noi è diventato molto più difficile. Però nella ripresa avete ricominciato credendoci anche di poter recuperare lo svantaggio, no? Sì, sì, siamo ripartiti bene con il secondo tempo, poi nel momento migliore abbiamo preso gol. Purtroppo la selezione nostra manca un po' di fiducia, perché comunque la squadra viene da, nonostante i due risultati positivi, però comunque viene da un periodo negativo. Stiamo prendendo qualche giocatore che non sta ancora in condizioni, quindi sta un po' in costruzione la squadra. Abbiamo qualche problema fisico, abbiamo perso il cacciatore, che per noi comunque è un giocatore importante per l'infortunio. È normale poi fare tre partiti. Pensevamo che fosse uscito invece per farlo riposare, perché aveva speso troppo, ci dispiace che sia infortunato. No, ha avuto un piccolo risentimento muscolare, speriamo che non sia niente di grave, però è chiaro che per noi il cacciatore è un giocatore fondamentale. Poi veniamo da una partita sul campo di Ponte Romano che è impegnativa, sia a livello mentale sia a livello fisico, perché il campo era impraticabile. È normale poi, vieni qua a Giulianova, una squadra giovane, che comunque la sua forza e il ritmo e il palleggio è normale, che poi una volta che va in svantaggio la partita non la recuperi più. Grazie mister, in bocca al lupo. Grazie.